Allora, innanzitutto voi siete ragazzi di che scuola? Della quarta area del Cassino Ok, ci spiegate questo gioco? Allora, in pratica abbiamo fatto un lavoro sull'imperi perché la storia in piazza quest'anno è centrata sull'imperi e abbiamo analizzato degli imperi che vanno dalla metà del 1800 fino alla metà del 1900 circa e niente, di questi imperi abbiamo selezionato sei argomenti, personaggi o avvenimenti importanti per ogni cosa scelta abbiamo stampato un'immagine e abbiamo allegato una tascalia all'immagine e il gioco consiste nell'abbinare questa tascalia qua all'immagine appropriata ma anche quella giusta e ovviamente alcune immagini sono questa tascalia c'è il volso di Mussolini questo è Chamberlain ad esempio questo è Chamberlain questa è la spiegazione del personaggio e ovviamente il gioco si svolge a squadre per le classi delle scuole le dividiamo in due parti e appunto a tourno devono amminare la dinascalia le immagini corrispondenti quindi poi si va a punteggio insomma quindi andovina di più grazie grazie